Musica Ciao gentaglia, sono usciuti a Hate U, questo è Breaking Italy, io sto morendo di qualcosa di strano e infatti parliamo di salute Parliamo del Ministero della Salute e di un rapporto annuale che riguarda la famosa legge 194 Ovvero quella che si occupa dell'interruzione di gravidanza, sicuramente lo sapete perché l'interruzione di gravidanza è una di quelle cose più dibattute nel nostro paese Perché sollevano un enorme polverone etico perché ci sono un sacco di persone che non vogliono che altre persone dispongano del proprio corpo come meglio credono In Italia, a prescindere dalla propaganda che moltissime di queste persone fanno, gli aborti sono in diminuzione E questo ovviamente è dovuto a tante cose, ma principalmente a una sempre maggior consapevolezza di come funzionano certe cose, a un approccio al sesso sicuro, eccetera E i dati sono confortanti, infatti nel 2012 rispetto all'anno prima, il 2011, gli aborti sarebbero il 5% in meno E addirittura del 55% se si comparano ai dati del 1982, anno dove si è registrato il numero più alto di aborti in Italia Un terzo delle donne che affrontano questi aborti inoltre non è italiana, ma parliamo di donne straniere Le quali abortiscono molto di più percentualmente parlando rispetto alle donne italiane Conseguentemente se la notizia finisse qui sarebbe una bellissima notizia Perché mostra come la consapevolezza delle cose e la cultura e l'insegnamento e la sensibilizzazione funzionino molto meglio Dell'impedire alle persone di fare le cose e basta o di caricarle di una sorta di vergogna e di disonore Che normalmente ha radici tradizionali e religiose E ad avere radici religiose è anche il fenomeno degli obiettori di coscienza Che nonostante gli aborti in Italia si stiano abbattendo, il numero aumentano Abbiamo già parlato un sacco degli obiettori e per chi non lo sapesse sono quei medici che nonostante siano dei medici E nonostante lavorino nel campo non solo della medicina ma spesso specificamente nel campo di salve Sono il dottor shooter e faccio nascere bambini Si rifiutano per ragioni morali perché la vita è sacra e bla 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 di eseguire delle interruzioni di gravidanza Cosa che personalmente trovo assolutamente inaccettabile ma sarebbe un ok Se non fosse che gli obiettori in tutta Italia sono molti di più rispetto ai non obiettori E questa cosa secondo vari studi avrebbe un'impronta non soltanto tradizionale Ma anche di mobbing stesso all'interno degli ospedali che si configura in Fantastico Billy sei l'unica persona che esegue delle interruzioni di gravidanza in questo ospedale Farai solo quello perché noi non lo vogliamo fare E parliamo di numeri spaventosi In tutta Italia 7 medici su 10 sono obiettori di coscienza E la regione che fa peggio in assoluto in tal senso è la Campania Dove gli obiettori sarebbero 9 su 10 Quindi sono quasi tutti obiettori Il che significa che spesso in molte città non ci sono medici che eseguono delle interruzioni di gravidanza E una persona debba spostarsi da città a città o addirittura da una regione all'altra Incontrando comunque anche in altre regioni enormi difficoltà Il che per quanto mi riguarda è pessimo Comunque vi lascio l'articolo in descrizione Potete andare a vederlo Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti Schiacciate su questa notazione se voleste vedere altri video che ho fatto oggi Io sono ShotaHateYou e questo era Breaking Italy Grazie a tutti